Ben trovati al meteo. La perturbazione si allontana ma nella giornata di giovedì 5 agosto causerà ancora qualche disturbo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra una situazione instabile ed in effetti nella mattinata sarà possibile ancora qualche temporale a carattere sparso. Col passare delle ore poi andrà migliorando piogge in diradamento e maggiori schiarite soleggiate. Temperature un po' più fresche minime comprese tra i 13 e i 19 gradi valori massimi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui rovesci inizialmente a seguire andrà un po' meglio con tempo via via più asciutto. Temperature minime tra 15 e 19 gradi massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige anche qui le condizioni di maltempo al mattino nel corso del pomeriggio invece sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16 gradi massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto come sempre vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.